Buongiorno a tutti voi, siamo pronti per una nuova settimana e per una nuova puntata di Detto Tra Noi. San Francesco è uno dei santi più amati e più venerati in tutto il mondo, una figura straordinaria, una vita davvero che ha dell'incredibile. Pensate che esiste un festival che lo celebra, che è il festival francescano, che quest'anno giunge alla decima edizione, quarto anno a Bologna e questo fra circa 9-10 giorni, quindi alla fine del mese, Bologna si trasformerà proprio in un salotto dedicato a questa figura del santo. Voi vi chiederete perché partecipare a un festival francescano, che cosa c'è da fare? Si prega e si digiuna? In realtà non è così, sono 200 le iniziative, 80, un'ottantina, i protagonisti che vengono dagli ambiti più disparati, dal mondo dello sport, della moda, dell'arte, del giornalismo e tutti uniti, diciamo così, dalla tematica di quest'anno che è la bellezza. Il sottotitolo di questo festival quest'anno è Tu sei bellezza. Cerchiamo di capire che cosa significa questo termine in riferimento a San Francesco, lo facciamo con il presidente del festival, che è fra Gianpaolo Cavalli, che già conosciamo perché abbiamo avuto il piacere di avere in trasmissione, essendo anche il direttore dell'Antoniano, lui è teologo dell'Ordine dei Minori, provenienti dal Veneto, però adottato ultimamente, negli ultimi anni, da Bologna. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, la bellezza è una tematica estremamente bella, che uno non si aspetta immediatamente di collegare alla figura di San Francesco. Partiamo proprio da questo titolo. Sì, in realtà, nell'esperienza umana e spirituale di Francesco D'Assisi, il tema della bellezza è un tema importantissimo ed è uno dei nomi con cui Francesco si rivolge a Dio, ma Francesco riesce a dare questo nome a Dio perché è stato capace di individuare e riconoscere bellezza intorno a sé. Basti pensare a quel bellissimo canto che è il Cantico delle creature, che racconta di questa meraviglia e bellezza di fronte alle opere di Dio, il creato, ma anche la stessa esperienza umana, dove parla di perdono, di morte, di vita e quindi questo è un tema fondamentale nell'esperienza spirituale di Francesco D'Assisi. Il titolo stesso prende l'ispirazione da un testo di Francesco dove, rivolgendosi a Dio e chiamandolo con diversi nomi, uno dei nomi che Francesco utilizza è proprio questo, lo chiama Tu sei bellezza e abbiamo voluto proprio incamminarci in questo percorso affidandoci un po' a Francesco perché il tema della bellezza è un tema caro a tutti, chi non ama la bellezza, chi non la desidera, chi non la cerca. Si dice spesso che la nostra società o questo momento è un momento molto legato all'estetica e alla ricerca della bellezza, per cui abbiamo provato e voluto provare a fidarci di Francesco D'Assisi e del suo mondo che da tanti anni racconta e cerca bellezza. Ecco, Dostoyevsky ha detto che la bellezza salverà il mondo. Noi stiamo parlando in realtà di una bellezza nelle sue tante sfaccettature. Si, in realtà la forza di questo termine, di questa esperienza sta proprio nel fatto che ogni epoca, ogni cultura, ogni situazione ha saputo individuare ed affidarsi a dei canoni di bellezza e allora ciò che vorremmo fare in questi giorni è proprio quello di provare a cercare, a guardare, a scoprire bellezza ovunque perché ogni esperienza umana è portatrice di bellezza e ogni aspetto dell'esistenza ha con sé la forza della bellezza che è forza di vita e possibilità di futuro. Ecco, oltretutto guardando tra i vostri relatori ci sono tantissimi storici dell'arte e critici però in realtà voi non parlate solo di questo e io al proposito guarderei subito il promo perché ci dà molto l'idea del messaggio che volete dare ed è anche commovente. Guardiamolo. Ciao. E' una sorpresa. Vedo me, un specchio. Io vedo due belle sonelline che ci abbracciano. È bello, insomma, non te lo aspettaresti mai di vedere te stesso come opera d'arte. Forse da una parte guardarsi con gli occhi degli altri è sempre più semplice. Sono due centimetri che devono distinguere il francescano, uno da una parte e uno dall'altra. Una perfetta opera d'arte, stupenda. Ecco, io l'avevo detto che era comodente. Infatti ho detto non lo guardo perché dopo rientro con l'occhio lucido. In realtà dice tanto questo video. È molto inclusivo. Prima di tutto dobbiamo accettare noi stessi con tutti i lati negativi che abbiamo. E anche quelli positivi, no? Beh, certo, però magari quelli positivi li vediamo più facilmente come qualcosa di artistico, di bello. Sono quelli negativi che ci danno più da fare. Sì, questo fa parte anche dell'esperienza di Francesco D'Assisi. Perché proprio accettando le sue debolezze, Francesco è stato capace di diventare quell'uomo e quel santo che tutti ricordiamo. La sua esperienza parte proprio dall'incontro con il lebroso che gli capovolge completamente i parametri dell'esistenza. Infatti, poi queste circostanze della conversione non sono ancora tanto chiare. C'è stata prima la malattia, comunque la guerra, quel figli bellini. Quindi un periodo di sofferenza che l'ha portato all'isolamento perché tutti più o meno lo sapranno. ma Francesco faceva parte di una famiglia molto facoltosa. Molto facoltosa di assisi. Commercianti, di tessuti. Borghese che voleva diventare nobile. Per cui lui ci prova andando in guerra, però poi la guerra non è il luogo dove lui trova il successo. Perché si ammala, viene fatto prigioniero e sono situazioni molto faticose. Quando ci si trova... Esatto, sono sempre le situazioni di sofferenza che poi ci spalancano anche delle visioni diverse del mondo. E lui in effetti durante il periodo della convalescenza è entrato anche in contatto con la natura e ha cominciato probabilmente a guardarla con occhi diversi. Lui che oltretutto, ho scoperto ieri, ripercorrendo la sua vita, si chiamava Giovanni. Giovanni detto Francesco. Ecco, il padre poi gli ha dato il nome Francesco pensando che in Francia aveva fatto la sua maggiore fortuna. Sì, probabilmente anche la madre era francese per cui c'era questo legame fortissimo con questo mondo. Entriamo nel programma. Nel programma di queste giornate molto intense, molto ricche. Abbiamo detto il 28, il 29, il 30 sulla carta. In realtà ci sono delle anteprime. Sì, ci sono delle anteprime. Ci sono due mostre che sono iniziate il 15 e il 16 di settembre che si prolungheranno per tutto il tempo del festival e anche oltre nella Pinacoteca e nel museo. Una mostra che raccoglie tutte le opere francescane più importanti di Bologna a livello di tavole, a livello pittorico. E un'altra mostra dove sono presentati dei corali della tradizione francescana. Per cui c'è un aspetto, diciamo, proprio legato alla bellezza estetica e artistica più tradizionale. Oltretutto leggevo che ci sono stati degli eventi precedenti a Chieti, a San Leo, che hanno un po' dato anche il là a questa decima edizione, dove sempre c'era la bellezza come protagonista. Esatto, sì, perché diciamo che una delle caratteristiche di questa esperienza è di arrivare in piazza e di incontrare la gente, chi passa per la piazza, e di raccontare un po' di questa visione del mondo che parte dall'esperienza di Francesco. E si è un po' diffusa, no? E si sta un po' diffondendo in varie zone d'Italia. Oltretutto queste persone che poi incontrerete l'anno scorso, 50.000 presenze, e leggevo un po' l'identikit dell'utente finale, di chi passa per la piazza. In realtà ho letto che c'è una maggioranza forse di donne, diciamo, precisamente un 68%, mi sembra di ricordare bene, un pubblico culturalmente elevato, quasi la metà di laureati, insomma. La cosa che l'anno scorso ci ha anche piacevolmente stupito è stato un incremento di giovani che sono passati per la piazza rispetto agli anni precedenti, per cui anche quest'anno abbiamo voluto pensare, immaginare delle proposte che potessero in qualche modo arrivare e coinvolgere il mondo dei giovani in maniera significativa. Come si fa a coinvolgere un giovane oggi? Perché è difficile, con questa velocità? Bisogna andare al ritmo dei giovani, cioè non si può pretendere che i giovani vadano a un ritmo diverso, per cui... Le diverse filosofie dello slow non funzionano con i giovani, perché sono troppo abituati. Io penso che funzionano nel momento in cui qualcuno assapora qualcosa di buono, allora ha il coraggio di fermarsi, di rallentare, perché il buono e il bello piace a tutti, no? E quindi forse oggi siamo abituati a pizzicare in tanti posti e non abbiamo la pazienza di fermarci per provare a gustare. Pensiamo che il pizzicare sia il gustare, invece è un po' diverso. E a proposito di gustare, di pizzicare, di cose buone, immediatamente uno pensa alla cucina, inevitabilmente. Infatti quest'anno il festival si aprirà proprio con la presenza di Massimo Bottura, che è stato confermato come il primo chef al mondo qualche mese fa, perché nel percorso che sta facendo Massimo Bottura, oltre a lavorare anche con l'Antoniano, e questo ci fa molto piacere, c'è proprio questa ricerca della bellezza nel cibo e del non spreco. Infatti l'associazione che ha fondato si chiama Food for Soul, cibo per l'anima, e sta portando in giro un po' per il mondo questa attenzione al non spreco e alla condivisione, perché... L'idea della mensa. L'idea della mensa, sì, di questi refettori che sono capaci di offrire bellezza e qualità anche a quelle persone che non se la possono permettere. L'anno scorso voi avete distribuito 5.000 pasti. 5.000 pasti, sì, durante il festival c'è questa tavola dove ognuno può accedere, perché ci sono le tagliatelle, i classici cibi bolognesi, e il ricavato va per sostenere le mense francescane che ogni giorno offrono un pasto a persone che da sole non ce la fanno. E torniamo a questa figura del bisognoso, che nel caso di San Francesco era più specificatamente il lebroso, quindi anche il malato, e oggi può essere comunque visto come l'emarginato, quello che vive ai margini della società, e ce ne sono tanti oggi. Oggi la povertà è molto presente, oggi è anche molto visibile, direi. Basta percorrere i portici di Bologna o passare per le strade, che si è subito affiancati da persone che chiedono la carità, e quindi c'è questo impatto molto potente di questo bisogno che sembra sempre di più allargarsi. Diciamo che è questa forbice che si sta allargando, questo divario che si percepisce proprio in aumento, anno dopo anno, tra le vetrine spavillanti, e chi veramente ha tanti soldi e chi ha tanto bisogno. Chi è in povertà, sì. Io penso che una delle grosse fatiche di oggi sia proprio pensare che il problema siano i bisognosi e non la povertà, no? I poveri e non la povertà. E per Francesco, cioè, l'andare incontro al povero gli ha fatto scoprire della bellezza che non immaginava esistesse né in lui né negli altri. No? Questa meraviglia, questo stupore, questa vita che ha dei parametri diversi rispetto a quelli che normalmente riusciamo a immaginare, a pensare, a programmare. Beh, lui ha scardinato completamente tutti questi parametri. Sì, ma perché ha avuto il coraggio di superare una barriera che lo teneva lontano. A un certo punto lui stesso si è definito pazzo, giullare. Sì, esatto. Perché era fuori dagli schemi ed era ritenuto anche pazzo perché un ragazzo di una famiglia molto importante, ad Assisi, una delle famiglie che più stava crescendo, che decide che la sua bellezza sta nelle relazioni con tutte le persone, con il creato e non tanto in quello che riesce ad accumulare, a mettere via. Ha devastato la famiglia prima perché il padre non ha capito quello che ha fatto. però ha offerto una possibilità di umanità diversa, alternativa, nuova rispetto a quell'epoca che è capace di parlare ancora oggi. Lui si è spogliato proprio anche letteralmente. Sì, letteralmente, sì, si è spogliato degli abiti. Quindi non oso pensare in quel momento in cui si è deludato di fronte a tutti con un grandissimo imbarazzo. Però è stato davvero un voltare pagina di fronte. Sì, un gesto molto simbolico, penso anche molto faticoso per lui, per la famiglia, anche per chi lo ha accolto, però che segnava, che raccontava di questo cambiamento radicale nello stare nelle relazioni e nel mondo. Io penso che sia anche per quello che è una figura tanto amata. Pensiamo al nostro Papa, il cui nome è Jorga e Mario, che ha deciso di chiamarsi Papa Francesco in suo onore. Il primo, in assoluto. Sì, io penso che la forza, una delle grandi vitalità e vivacità di Francesco, da Sisi, è proprio legata alla sua capacità di interpellare l'umano in chiunque. Esatto. In chiunque. E noi di che cosa dobbiamo spogliarci in particolare oggi? Dei pregiudizi che abbiamo, dei pregiudizi, perché i pregiudizi che non ci permettono di riconoscere la bellezza che ci sta attorno. Perché i pregiudizi sono veramente dei grossi schermi che abbiamo davanti al cuore più che davanti agli occhi e che ci fanno veramente non comprendere ciò che nella sua essenzialità, nella sua vitalità e nella sua forza ciò che ci sta attorno. Ci sono delle forme di racconto anche della bellezza nell'arte che se, ad esempio, se noi leggessimo un Picasso con gli stessi criteri con cui leggiamo un Raffaello, uno dei due non ci racconta di bellezza. No, eppure entrambi comunicano una bellezza e una vita che ha dell'incredibile. E voi avete cercato proprio attraverso la scelta di questi ospiti, io ne ho contati 78 ma forse ne ho saltato qualcuno, di come può essere diverso il mondo e i percorsi che una persona può fare. Abbiamo citato Bottura ma ce ne sono tantissimi altri. Sì, ci sono filosofi, teologi, poeti, artisti che saranno presenti in questi giorni, anche di estrazioni molto diverse e con percorsi culturali molto diversi, uniti tutti da questa ricerca della bellezza, la scoperta, per offrirci occhi e criteri per riconoscere questa bellezza che ci viene incontro. Anche molta musica? Anche molta musica, le serate soprattutto sono accompagnate dalla musica. Ci saranno dei... Grazie. Ecco, no? Ci sono dei gruppi, c'è Radio Dervish che farà una serata il venerdì sera, i Dessan, il mercoledì, e poi soprattutto lo spettacolo del sabato sera con la presenza di musicisti internazionali, italiani, con una musica anche strana perché c'è un gruppo che lavora nel carcere e che ci racconterà questa esperienza musicale che nasce da un luogo dove non c'è bellezza e solitamente non siamo capaci di immaginare che possa esserci bellezza eppure riescono a raccontare anche questo. Anche perché forse è l'unico modo per andare avanti, per sopravvivere in determinate situazioni. La bellezza aiuta a vivere tutti, no? In ogni situazione la bellezza aiuta a vivere. La bellezza non è nel viso e nella luce del cuore. Questa è un'altra frase che ho. In realtà qua stiamo parlando anche proprio di una bellezza esteriore, concreta, pratica. Chi ci ascolta e non ne vuole, non ha nessun interesse di avvicinarsi a un aspetto religioso, l'ho detto anche all'inizio di questo festival, perché uno pensa festival francescano immediatamente. In realtà... Allora, è un festival di piazza, e in piazza ci sarà spazio per chi vuole fare un'esperienza religiosa, perché ci saranno anche degli spazi proprio dedicati alla riflessione religiosa, a temi specificamente legati all'ambiente teologico e anche all'esperienza, ma ci saranno spazi anche molto, molto laici, diciamo, in cui il tema è il tema della ricerca della bellezza, non è il tema religioso della bellezza, no? Perché alla fine la bellezza è un valore, una dimensione che può accomunare tutte le esperienze della vita. Io sto guardando sul programma, ad esempio, sabato 29 settembre, dalle 8, l'Odi mattutine, poi ore 9, il più bello tra i figli dell'uomo, ore 9, 30, 10, 30, caffè con il francescano. Quattro chiacchiere con fratti, suore, laici, francescani, la bellezza di un caffè pensando agli altri. Sì, perché abbiamo visto negli anni precedenti che c'era molta curiosità di dialogare con qualcuno che ha fatto una scelta così importante, diversa nella propria vita, di diventare o frate o suora. E allora abbiamo immaginato questo spazio dove chi vuole può sedersi con un francescano, una francescana, prendere un caffè, perché il caffè è l'occasione di un momento di relax e fare due chiacchiere, no? Un'opportunità di incontro. Ma fra Gianpaolo, qual è la reazione un po' comune o classica delle persone che magari non sono abituate a avere dei rapporti con delle figure religiose nel momento in cui vi vedono per la strada o devono semplicemente dialogare o comunicare con voi? Allora, la prima reazione quando vedono un frate per la strada è quella di guardare i piedi, no? Perché di solito i francescani sono scalzi, per cui è... Guardiamo se è vero. Guardiamo se è vero, no? Per cui la prima reazione è quella. E poi ci sono reazioni le più disparate, no? Dal povero che ti avvicina per... che ha bisogno di raccontarti la sua storia a chi vuole condividere qualcosa a chi ti chiede una preghiera a chi ti insulta... C'è chi insulta... Sì, 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 no, perché... O chi brontola, passandovi vicino, magari come se fosse colpa vostra della bruttezza del mondo a proposito. Sì, sì, che ci domanda cosa facciamo per strada, no? Che dovremmo sparire, eccetera. E in quel caso come rispondete? Beh, come raccontava prima il frate nel... O tentiamo di rispondere come raccontavano il frate nel video, no? Provando a sorridere e a raccontare qualcosa di diverso, perché alla fine il mondo si cambia se tu sei capace di raccontare qualcosa che ti appartiene e qualcosa che offre un po' di futuro. Tra gli altri appuntamenti da non perdere, ce n'è qualcuno in particolare che vogliamo ricordare, perché veramente sono tantissimi. Abbiamo detto che sono 200 le iniziative. Sì, sono 200 le iniziative. C'è un appuntamento che è nuovo all'interno del festival e che questo è prettamente religioso, perché quest'anno alle ore 10.50 ci sarà la messa dal monastero delle Clarisse di Via Tagliapiedra che verrà trasmessa dall'AI1, per cui questo è un appuntamento nuovo e anche che ci sembra molto bello per poter raccontare di questa bellezza che nasce dall'incontro con il Signore. E poi ci sono tutti questi incontri di piazza che hanno il fascino di avere persone con un'esperienza molto importante alle spalle. Ci sarà addirittura il venerdì mattina, ci sarà in una tavola rotonda che ha come tema la ricerca della bellezza nella filosofia, ci sarà il rettore della Statale di Milano che ha questa tavola rotonda, per cui è un momento molto importante e certamente molto significativo. E poi attori, giornalisti, sportivi, campioni di basket. Tutti porteranno la loro. Come avete scelto questi personaggi? Chi li ha scelti? Il festival è un'esperienza collegiale anche nella preparazione, perché il mondo francescano ha tante anime e una delle grandi esperienze della realizzazione del festival è che i tanti che si ritrovano attorno, che si identificano nella proposta di vita di Francesco D'Assisi o nel suo pensiero, si trovano insieme attorno allo stesso tavolo a provare a immaginare come raccontare questo tema. Quest'anno è il tema della bellezza, a provare a raccontarlo secondo le tante anime, le tante dimensioni che c'entrano con la vita. Perfetto, grazie infinite a Fra Giampaolo Cavalli, che è il presidente del festival francescano, che si terrà precisamente il 28, il 29 e il 30 settembre a Bologna. Quindi siamo in chiusura. Decima edizione. Ci sono delle anteprime nei giorni precedenti. Voi potrete scaricare il programma, quindi vedere i relatori, i protagonisti, i personaggi, gli appuntamenti da non perdere, direttamente sul sito internet, che è www.festivalfrancescano.it. Questo è il metodo migliore, più diretto, per imparare a conoscere il festival, ad avvicinarsi a questa esperienza che ha spazi per adulti, per bambini, per giovani. Ed è possibile, grazie anche all'aiuto di tanti sponsor, dei tanti amici che hanno reso possibile questo evento di piazza. Se vogliamo, sono tanti similienti collaboratori, associazioni che hanno preso parte. Dal comune di Bologna alla regione e a tanti enti privati che ci sostengono e che hanno permesso e che permetteranno questi bei giorni in piazza Bologna. Perfetto. Detto tra noi, torna domani a mezzogiorno, con una tematica completamente diversa, che è l'insolvenza e il debito. Con questo è davvero tutto. Restituisco la linea a Michele Tiscia in regia. Buona giornata.